SIGLA Abbiamo scoperto una cosa qui. Una cosa che forse solo tu puoi capire. Oh mio Dio. Ho impiegato vent'anni per prepararci a questo momento. Abbiamo utilizzato la loro tecnologia per rafforzare il nostro pianeta. Ma non sarà sufficiente. Li vedo nei miei sogni. Stanno tornando. Ancora una volta combatterete per la nostra libertà. Non dalla tirannia, dall'oppressione o dalla persecuzione. Ma dall'annientamento. E se dovessimo risultare vincenti, il 4 luglio non sarà più ricordato solo come una festa americana. Ma come il giorno in cui il mondo intero con una sola voce ha dichiarato, noi non ce ne andremo in silenzio della notte. Noi non ci arrenderemo senza combattere. Ritirata. Noi continueremo a vivere. Noi sopravviveremo. Oggi festeggiamo il nostro. È senza dubbio più grande dell'ultimo. Vacavol. Ritirato. Cadillut. Fonsat.